Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Tratteremo oggi dell'episodio 7x01 di Game of Thrones, ma prima di iniziare, sigla. Prima di trattare gli avvenimenti presenti all'interno dell'episodio, volevo soffermarmi brevemente qualche istante sull'ambito tecnico. Nella prima puntata di questa settima stagione del Trono di Spade, non è possibile non notare l'enorme lavoro registico. Se ci fate caso, infatti, i cambi di inquadratura sono frequenti ma non eccessivi e soprattutto ci consentono di osservare i personaggi, i paesaggi e gli oggetti da uno svariato numero di posizioni. A tecnica del campo e controcampo, spesse volte si permette di osservare non solo come di consueto l'individuo che parla dalla prospettiva di chi ascolta, ma anche colui o colei che ascolta dalla prospettiva di chi parla, così da permetterci di concentrarci sulle reazioni dell'uditore che sono spesso decisamente interessanti. Sono presenti un gran numero di riprese dall'alto che di consueto invece in una qualsiasi altra serie tv sono assenti o pressoché tali. Per non parlare dell'illuminazione che gioca un ruolo fondamentale, definendo spesso l'atmosfera della situazione, se ci facciamo caso, momenti più cupi o comunque sia profondi sono spesse volte caratterizzati da una luce più fioca ed ovviamente ciò avviene anche perché i momenti cruciali sono notturni. Lavoro stupefacente dal punto di vista del montaggio e ciò lo si può notare nella sequenza che vede Sam ripulire le ciotole da quanto i vari maestri avevano lasciato in esse. Scena volutamente disgustosa quanto realistica. Gli effetti speciali poi a primo impatto sembrano essere ulteriormente migliorati al punto tale che, viste anche tutte le motivazioni suscitate e quelle che seguiranno, Game of Thrones non ha nulla da invidiare a tante opere cinematografiche anche di spessore. L'espressività di Lena Headei, se pronunciò bene, dell'attrice che interpreta Cersei Lannister per capirci, è di certo l'arma in più di questa serie se si parla di recitazione. Proprio i suoi atteggiamenti infatti creano nello spettatore un senso di empatia che nella maggior parte dei casi va in netto contrasto con l'odio che pur si prova per il suo personaggio vista la sua sottile perfidia. L'imponenza di Emilia Clarke nell'interpretazione di Daenerys è poi l'apice di una serie che per molti spettatori ormai rappresenta qualcosa di più che è una semplice finzione. Ora mi rendo conto che molti di voi non avranno apprezzato questa fase di analisi tecnica e sottolineo che ho dovuto leggere qualcosa dal copione creato da me ovviamente perché era tanta roba di cui discutere, secondo me andava fatto perché è qualcosa di assurdo in Game of Thrones. Ma andiamo alla vicenda. L'episodio si apre con aria che fa fuori tutti i fray, ovviamente prendendo l'identità di Walder in questo modo, facendoli fare un brindisi che fa sì che tutti quanti, e dico tutti quanti, muoiano. Al di là delle donne che lei risparmia perché effettivamente è un personaggio sì vendicativo ma con un codice d'onore. Rivedremo poi aria che si incrocia con dei soldati che dovrebbero essere dei Lannister che le porgono il loro sussidio e soprattutto tra questi soldati c'è Ed Sheeran, una scena che mi ha molto preso anche perché per quel poco che ha fatto neppure dal punto di vista recitativo mi sembra che abbia sfigurato. Sentivo una bellissima voce e non capivo come fosse possibile fin quando non ho visto Ed. John e Sansa, ecco, questo rapporto si sta in asprendo perché come molti di voi avevano previsto, Sansa comincia a diventare Cersei. Sansa comincia a bramare il potere e soprattutto comincia a farsi condizionare da dito corto che comunque sia, sono convinto, eliminerà ma sempre per poter acquisire il potere. In effetti quando John vuole perdonare due casate di cui non ricordo gli strambi nomi perché effettivamente i padri avevano sbagliato ed erano stati puniti, mentre i figli invece erano del tutto innocenti, Sansa si oppone e suggerisce a John di sfaldare le loro casate e di passare i castelli alle altre casate. Cersei ed Euron, ecco Euron Grey, Joy come previsto anche in questo caso, va da Cersei e le propone di sposarsi. In cambio le darà le sue navi per il combattimento contro Daenerys Targaryen e tutti gli oppositori. Ed in effetti Cersei sembra interessata, declina l'offerta perché non si può fidare al 100% di Euron, ma Euron le promette che farà in modo che lei si fidi. Bran, parliamo di Bran molto brevemente perché si vede per pochissimo tempo, giunge al castello nero dei Guardiani della Notte e il Lord Comandante lo fa entrare constatando che effettivamente è Bran Stark e qui si conclude la sua vicenda. Insomma Bran Stark è quasi tornato a casa. Jorah e Sam, per quanto riguarda Sam sta continuando a studiare, ma nel contempo purtroppo è relegato a delle faccende che sono disgustose, come appunto quelle precedentemente citate, tra le quali vi era proprio il dover pulire le ciotole di maestri anziani che si trovano in condizioni pessime, quindi che vomitano e fanno altre cose che insomma non sto qui a descrivervi perché fanno abbastanza schifo. Quando va a prelevare una ciotola da una di queste stanze celle, perché sembrano delle celle, trova Jorah Mormont, o perlomeno non lo si capisce, Jorah infatti cerca quasi di toccarlo, non lo fa probabilmente per non trasformarlo in pietra, e chiede se Daenerys è arrivata. Però Sam non conosce Daenerys e non sa dargli una risposta. Daenerys stessa, ecco, personaggio che si vede soltanto nell'ultima fase e che però colpisce tanto, perché c'è una scena in cui lei sta in silenzio assieme a Tyrion che dice tutto, lì parla la macchina da presa e parlano i volti dei personaggi. Ecco perché dal punto di vista tecnico ho fatto una disquisizione pazzesca, magari neppure troppo professionale, ma andavano fatti dei complimenti da questo punto di vista, ecco. Arriva imponente con tutte le sue navi ed è pronta a conquistare il regno, le Westeros, ed infatti si finisce l'episodio con Daenerys che dice Iniziamo. Ciò accade quando Daenerys arriva sul tavolo sul quale Stannis Baratheon pianificava i suoi attacchi. Si è visto poi il trono di roccia del drago che è qualcosa di assurdo e che è costituito da vetro di drago e quando lo saprà Jon sicuramente lo vorrà utilizzare. Ma Daenerys, per quello che ne so, non è troppo interessata agli estrani al momento. Che cos'è che ho amato alla follia di questo episodio? Beh, ho amato tantissimo il fatto che non ci abbiano sparato tutte le cartucce ora. Contrariamente a tante persone, infatti, io non volevo che nel primo episodio ci fosse troppa roba. Ho amato che fosse introduttivo. Anche perché credo che da ora in poi sarà guerra. Ogni episodio avrà qualcosa da dirci, ogni episodio vedrà morti e quant'altro. La seconda cosa che ho adorato, come già detto poi, nella recensione della parte tecnica, tra virgolette, è l'interpretazione dell'attrice che fa Sersi. Inahide, se non sbaglio di nuovo pronuncia, è stata talmente magistrale che in quel momento mi è venuta tanta di quella voglia di iscrivermi al miglior corso di recitazione del mondo, pur non avendo soldi, perché volevo essere come lei. In una versione maschile, però. Ho apprezzato Euron, come è stato gestito Euron come un personaggio molto diretto che mancava all'interno di questa serie e mancava con ottime probabilità perché doveva essere introdotto lui, che poi ha anche una certa importanza. Mi è piaciuta la risolutezza di Zone. Non è vero che Jon Snow è interpretato da un cattivo attore perché Kit Tarrington per me è bravissimo. Oltretutto c'è da dire che è statico in quanto è questa la richiesta del personaggio, ma comunque sia come personaggio e quindi anche il tipo di recitazione sta cambiando. Perché Jon adesso è molto più risoluto, adesso comincia a starci dentro al potere e mi piace che abbia ostacolato Sansa che sta diventando appunto la nuova Sersi che vuole il potere praticamente più di ogni altra cosa e quindi spero che Sansa venga fatta fuori a più presto. Sembra brutto dirlo, ma deve essere fatta fuori per evitare che si creino ulteriori complicazioni. Penso che alla fin fine muoia, a meno che non la spunti in altro modo, ma ne dubito. Il fatto che non si sia visto Tyrion è perché secondo me vogliono dargli tantissima importanza tra qualche episodio, tanto da renderlo, il secondo personaggio più importante, per come la vedo io, o il terzo. Non che non lo sia già, ma in questo modo acquisirà un'importanza pari a quella che aveva nelle prime stagioni o addirittura superiore. Detto ciò ragazzi, ho detto tutto, il mio voto per questo episodio è 10 e l'ode, perché non ci ho trovato nulla di sbagliato, è introduttivo, per l'amor di Dio, ma fa intendere tante cose ed è giusto poi che sia introduttivo. Sembra non finire mai, e non perché ti annoi, perché ti incanti ad un'immagine. Ora, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi dell'episodio e in particolare se volete la live stasera, quindi lunedì ogni volta che esce l'episodio, o il martedì sera. Detto ciò, un saluto dal vostro Capitan Bandana e sigla finale.